Good Morning Milano, lunedì 6 maggio, sono le 7.08, inizia un'uova settimana in compagnia di Crystal Radio, di Good Morning Milano, della Buona Musica, ma soprattutto in vostra, vostra, vostra compagnia. Come state? Come è andata? Come è andato il weekend? Cosa avete fatto? Settimana normale questa, non abbiamo pause all'interno della settimana, arriviamo da due settimane dove insomma c'erano tre lunedì, quattro martedì, non si capiva niente, si fermava, si ripartiva, insomma, quindi questa settimana invece va via liscia. Ebbene che, so che è più lunga e tutto, ma secondo me guardate che alla fine siamo più abituati così, eh. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, il nostro numero di Whatsapp, qui pronto a leggere i vostri messaggi, a ricevere le vostre foto, a ricevere i vostri infatti, una volta avevamo le foto dell'alba, ma adesso alle 7.09 il sole è già alto e splende sopra di noi, anzi, in realtà non splende neanche così tanto, oggi c'è un po' di foschie, o meglio nuvolo, velato, velato dovrei dire, weekend bello però, weekend bello. Ieri poi ho fatto un giro turistico a Milano, cioè proprio ieri ho fatto il turista, ho preso il pullman, quello lì aperto, che ti fa fare tutto il giro, poi avevo tempo, ho fatto due giri, tra parentesi, perché vabbè, dovevo tirare il tempo che non arrivasse. Comunque dopo lo racconto, nel senso, è interessante, secondo me dovreste, ogni tanto anche voi, vivere questa città un po' più da turisti, in modo da capire un po' come ci vedono gli altri, gli occhi degli altri che vedono la nostra città, come saranno. Ma io ho visto tutti affascinati, un po' troppo dai negozi di Armani e quelle robe lì, però, vabbè, insomma, io rimaniamo affascinato dai tram, quindi insomma, ognuno c'è la sua. Si parte con la musica, si parte con Good Morning Milano, lue di 6 maggio, insieme, come sempre, fino alle 9, per raccontarvi un po' tutto quello che succede nella nostra città. I giornali sono pronti, tanti ospiti, iniziamo con questa puntata. Afrappè, anzi, musica! Ronda alta, Dargian D'Amico, le 7.13 minuti, Crystal Radio, e questo appunto è lunedì 6 maggio, lunedì che inizia con lo sciopero dei mezzi di ATM. Sì, è ben finita le due settimane di, diciamo, vacanze, ferie per alcuni, alcuni hanno fatto il ponte lunghissimo, cosa del genere, niente. Si torna oggi tutti al lavoro, si torna tutti oggi in città, lo so che in questo momento direte, ma quando ponte? Io lavoro tutti i giorni, è vero, sì, e non eravamo qua con voi. Ah, non eravamo qua con voi, quindi non potete dirci nulla. Ma è stato il fatto che oggi, appunto, inizia la settimana con uno sciopero dei mezzi ATM. Andiamo a leggere bene, in questo caso, per noi Milano Today, ma tutti i giornali ne stanno parlando, anzi, io vi consiglio sempre la app di ATM in questi casi, che è molto ben precisa, a volte fin troppo dettagliata, quindi bisogna leggere bene quello che c'è scritto, ma comunque, di base, cosa succede? Oggi, appunto, 6 maggio, Milano, grande rischio la circolazione dei mezzi pubblici ATM per effetto di uno sciopero nazionale del lavoro del trasporto pubblico locale, indetto dai sindacati, CUB Trasporti, COBAS Lavoro Privato, ADL COBAS, SGB, AL COBAS e USB Lavoro Privato. 8.45.15, prima fascia, seconda fascia, 18 fino al termine di servizio. Queste due fasi dello sciopero, quindi iniziano, appunto, alle 8.45, quindi avete ancora qualcosa per muovervi nel territorio, insomma, un'oretta e mezza buona ce l'avete ancora, riuscite tranquillamente a lavorare per riuscire a trovare il modo giusto di arrivare al lavoro, eh, questa mattina dovete capire un po' come fare. Attenzione perché, appunto, come sempre, poi, non tutto sarà chiuso, ma spesso e volentieri succede cosa? L'AM5 che magari chiude in tratti o anche tutta, perché, ricordo sempre, basta che in due facciano lo sciopero in turno sull'AM5 e l'AM5 non ha quelli che gestiscono la linea dalla sala centrale, cioè, detta male, eh, ok, quindi attenzione, che non è che ha detto, ah, perché non ci sono i conducenti, quella va, no. Idem per M4, che molto probabilmente avrà la stessa sorte, spesso volentieri M3, M2 ed M3, che magari sono più lunghe, vengono ridotte nel loro tragitto, insomma, state all'occhio a App ATM, che vi aiuta sicuramente a capire meglio che cosa potete o non potete fare in questa mattinata. Comunque, 8.45 inizia lo sciopero e finisce alle 15 e poi dalle 15, no, scusate, dalle 18 poi, cioè, quindi alle 15 alle 18 poi i mezzi girano regolarmente, dalle 18 fino a fine servizio di nuovo sciopero, quindi attenzione se uscite dal lavoro o dall'università o così dopo le 18 dovete trovare strade alternative. Settimana che si concluderà con sabato 11 maggio, dove avremo, e cominciamo a raccontarvelo qui dai microfoni della mattinata di Crystal Radio, il compleanno proprio di Crystal Radio. Bene sì, buon compleanno a Crystal Radio, Crystal Radio compie 40 anni e cosa succederà? È sabato 11 maggio, così accendeteci, anche se magari non andate al lavoro quel giorno, anche se magari quel giorno non ci ascoltate di solito perché non siete in auto alle 7 del mattino e potrei capirvi perché, infatti anche noi non saremo non dalle 7 del mattino ma saremo non dalle 8 del mattino, ci siamo presi un'oretta di vacanza, in realtà di preparazione, perché cosa succederà? Dalle 8 del mattino fino a sera, maratona, maratona Crystal Radio tutto il giorno con gli speaker e vi dico anche non solo quelli di oggi, ci sono anche dei ritorni storici, dei ritorni di gente che l'ha fatta questa radio, l'ha costruita, l'ha tirata su ben 40 anni fa, appunto nel maggio del 1984 nasceva Crystal Radio e quindi noi sabato saremo tutto il giorno a raccontarvelo, a cercare di farvi rivivere anche le emozioni di questi 40 anni. Invece andiamo a vedere il traffico in questo momento! E questo era Sting con If I Ever Lose My Faith In You, alle 7 e 22 minuti e andiamo avanti a leggere i nostri messaggi che ci arrivano al nostro Whatsapp 3317853555. Buongiorno a tutti, al direttore Fabio e a tutti gli amici di Crystal Radio Milano, una nuova settimana si apre con lo sciopero dei mezzi pubblici, è bene sì, grazie Alberto per ricordarcelo e sì, insomma, grande entusiasmo per l'inizio della settimana, io cerco sempre di darvi un po' la spinta del lunedì, ma effettivamente non è così semplice visto lo sciopero dei mezzi in arrivo, 8.45 vi ricordo, continuerò a dirvelo, 8.45, 15, il primo stop di questa mattina e poi dalle 18 fino a fine servizio. Attenzione però, io poi faccio, insomma, non vorrei fare terrorismo psicologico, nel senso che sicuramente c'è lo sciopero, sicuramente ci sarà una buona attenzione, ma non è detto che si fermi tutto, cioè a volte, spesso, ventieri, soprattutto in mezzi superfici, io lo dico sempre, in mezzi superfici sono quelli che ne risentono di meno, perché se il singolo conducente di quell'autobus non fa sciopero, quella linea funziona in quel momento. Vero è che su dieci pullman che andavano a passare, magari ne passano tre, e quindi insomma i tempi sono ben ben più allungati. Il weekend che è appena passato invece, torniamo sulle notizie che leggiamo dai giornali, è stato il primo weekend dove è entrata in rigore la delibera, diciamo, le regole per la movida sostenibile, detto tra tantissime virgolette. E allora leggiamo com'è andata, leggiamo com'è andata, lo leggiamo da Milano, Corriere della Sera Milano appunto, che dice, prima sera di movida sostenibile, stop al vetro e alle lattine dalle ore 22. I locali rispettano le regole e i mini market invece no. Già prima delle 22 i bar per l'asporto usano bicchieri di plastica, talvolta anche ai tavoli. La nuova ordinanza del comune in vigore durerà fino al primo giugno, anche se probabilmente verrà prorogata, primo giugno perché c'è una prova, nel senso questo è un test, poi se funzionerà o ci sarà da rivederla, poi verrà prorogata per tutta l'estate, che ovviamente è un momento un po' più clou, in cui la movida magari è un po' più anche fastidiosa, possiamo dirlo, dai ok. Un ragazzo Corriere della Sera però diceva tutto così bene, poi inizia così l'articolo, dice un ragazzo con uno zaino nero entra in un mini market in via Maiocchi, apre il frigorifero incastrato dietro la porta e prende sei bottiglie di moretti da mezzo litro, tre in una mano, due nell'altra e una sotto braccio, paga la merce e mette dentro la sacca ed esce. Erano le 23.43 del venerdì, perché è andato in vigore venerdì sera. La loro ordinanza è già in vigore da oltre un'ora e durerà fino al primo giugno, ma comunque questo avviene. E sì, perché la ordinanza cosa dice? Che vieta la vendita dell'asporto di bevande comprese d'alcol in vetro o lattina dalle 22 alle 5 del mattino. Sta di fatto che i bar sono riusciti a gestire questa cosa, alcuni mini market no, però ci saranno poi controlli, le cose, poi ripeto, io non credo che questa sia una delle soluzioni più intelligenti che si possano trovare. Comunque andremo a vedere. Sta di fatto che appunto la Corriere della Sera dice che per un mini market che non rispetta le regole ci sono barche, già prima delle 22 invece servono Coca-Cola, birra e gin tonic dentro la plastica. Interessante una cosa però mi viene da dire, siamo la stessa identica città che ha fatto una battaglia del plastic free. Cioè siamo qui che ce la miniamo perché i locali, voglio capire come faranno, a Nolo ci sono una cifra di locali che hanno fatto plastic free, quindi niente bicchieri di plastica e tutto e quindi bisogna fare aumentare perché devono fare i bicchieri quelli in pet sono quelli in plastica, gli altri che sono diciamo in materbi sono come i sacchetti quelli della verdura ma un po' più resistenti e quelli vanno nell'umido benissimo, dopodiché voglio vedere dove verranno buttati da chi li prende, ma a prescindere da quello, cioè i costi aumentano e quindi il gin tonic che già adesso costa, credo uno sproposito, non lo so perché non bevo gin tonic ma credo che non ti bastino 5 euro forse, chissà quanto diventerà dopo questa ordinanza perché poi i costi ovviamente si ritornano sempre su di noi, ah sì sì, non è per niente semplice, non è per niente semplice. Ed erano i Comacose, nessuna gioia tranne la fermata prima di centrale, com'è che dice così? No mi sembra, beh caro, i Comacose sapete quanto li amo e quanto è bello sempre sentirvi la mattina qui su Crystal Radio con anche tutto il resto della musica che viene messa dal grande ufficio programmazione che tutti i giorni ci dà grandi soddisfazioni e ricordatevi appunto che ve lo ricorderò continuamente sabato 11 maggio siamo in diretta, non solo io, tutti quanti di Crystal Radio, una staffetta, una maratona staffetta, tanti speaker che dalle otto del mattino fino a tarda sera faranno compagnia alle vostre orecchie, ai vostri cuori soprattutto per festeggiare, anzi il motivo è proprio quello di festeggiare i primi 40 anni, i 40 anni di Crystal Radio, primi 40 anni di Crystal Radio portati benissimo, devo dire, complimenti, una radio davvero diversa dalle altre, poi un giorno ne parleremo e magari un giorno, anzi invito il buon Alberto a venire qui in studio alle 7 del mattino, ma lui è sempre sveglio a quell'ora, quindi secondo me non è neanche un grosso problema e raccontarci come nasce questa radio, perché sapete tutte quelle storie delle varie radio, le radio libere, le radio libere fino agli anni 70, primi anni 80 appunto, questi ragazzi scapestrati che mettevano in piedi quattro antenne, due cavetti, tre giradischi, quando andava bene tre, se no era un giradischi e niente mixer se andava bene, oppure un micro mixer audio o cose del genere e costruivano quello che per loro era un sogno e poi quel sogno diventava la realtà e quella realtà arrivata fino al 2024. Questa è la storia di Crystal Radio detta in un secondo, cioè un gruppo di ragazzini, perché veramente ragazzini, che nel 1984 hanno avuto il coraggio, l'incoscienza, la sfacciataggine, chissà, decidete voi quale aggettivo utilizzare per dire, sapete che c'è, ma noi abbiamo bisogno di dire qualcosa, abbiamo voglia di dire qualcosa e soprattutto abbiamo tante tante cose da dire e quindi le hanno dette per 40 anni e ora tocca a noi altri e tocca a quelli che verranno dopo, quindi siamo tutti insieme, la cosa bella appunto di questa maratona dell'11 maggio, che ci saranno gli storici speaker e fondatori anche di Crystal Radio, ci saranno quelli nuovi che sono arrivati adesso, ci saranno magari quelli che arriveranno dopo e quindi insomma siamo ben contenti di allargare sempre questa grande famiglia in cui sono stato accettato fin dal primo istante, quindi grazie di mille davvero a tutta la radio. 3317853555, buongiorno Fabio, che bella questa canzone dei Comacose, è vero, è vero, è vero Adriana, quanto è bella la canzone dei Comacose, ma quanto sono belli loro, proprio a prescindere, io li adoro e quindi quando posso appunto l'ufficio di programmazione mi fa sempre questo regalo di mettermi i Comacose la mattina quando possiamo farveli ascoltare. Questa appunto è la musica di Crystal Radio, grazie mille ad Adriana al suo Whatsapp 3317853555, numero a cui potete scrivere per raccontarci un po' tutto quello che avete fatto anche nel weekend. Voi avete notato questa delibera del Comune che dice che non si può bere dopo le 10 in metro, plastica, non so. Vi siete accorti di qualche cosa riguardante riguardante la Movida, fateci sapere. Tra parentesi, nella notte appunto della Movida ci sono stati tantissimi controlli di polizia, quello che è della Sera Milano titola, notte di controlli con la polizia tra la Movida, ogni ora vengono ritirate tre patenti, le cause, alcol e droga. Quindi diciamo che insomma il problema non è di quelli piccoli, perché ogni ora ritirate tre patenti. Posti di blocco vicino alle vie dei locali, la questura dice contro la polizia stradale si pronunciano ancora più serrati per abbattere il fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tre patenti ritirate ogni ora. E questo era Ermal Meta alle 7.42 minuti e vi ho chiesto un po' cosa avete fatto nel vostro weekend, ce l'avete raccontato al 3317853555, chi è in regia invece ci ha raccontato di un weekend romantico per festeggiare il fidanzamento, l'anniversario di fidanzamento, così diciamo sì, non lo so, comunque in quel di Verona, dicono che è bella Verona, non sono della zona quindi non lo so, ma invece anch'io ho fatto il turista, infatti ve lo raccontavo prima nell'apertura di trasmissione e adesso vi racconto, io ieri ho fatto il turista, come l'ho fatto. Una ragazza che sta qui, dove abito io c'è un B&B, ok per intenderci così, quindi ogni tanto si chiacchiera, si fa, si dispa con chi rimane lì. Questi signori che sono arrivando all'Argentina, sono rimasti qua per due o tre giorni, ieri mi dicono guarda però abbiamo questo biglietto del Cityside Tour, quello che gira intorno, il pullman che gira intorno alla città, che vale due giorni ma noi adesso stiamo per partire, lo vuoi? Grazie, l'abbiamo preso, no? E allora ieri mi hanno deciso di fare questo giro per Milano turistico. Devo dire che al netto del fatto che l'applicazione di quel pullman lì è una ciofeca, perché comunque mi diceva che mancavano, a un certo punto dice che mancano otto minuti all'arrivo, poi dice mancano sei minuti, cinque, quattro, tre, otto, diciotto, poi di nuovo diciotto, poi insomma dopo 45 minuti di attesa però per fortuna è arrivato. E devo dire che è molto interessante, la donna mi ha preso le cuffie per ascoltare, anche se in realtà l'abbiamo già fatto tempo fa. Ma qual è la morale di questa storia? è quanti di voi hanno o vivono la città a volte in alcune situazioni o hanno vissuto la città da turisti? Perché insomma noi in una città come Milano dove ci viviamo, dove passiamo dal Duomo e molti di noi distrattamente guardano il Duomo senza rimanere affascinati ogni volta, cosa che invece andrebbe fatta perché davvero basta quel secondo in più e vi accorgete della magnificenza e dello spettacolo che c'è in questa città, soprattutto quando si davanti al Duomo, appunto, ripeto, ma non solo il Duomo si vive a Milano ma ci sono tante altre zone, tante altre vie bellissime da attraversare, bene, grazie all'Opono-Pof, no? Questo pullman dove sali e scendi dove vuoi, noi in realtà belli comodi si è messi in fondo, al piano di sopra in fondo, no? Come quelli che erano in gita, manca solo che cantavassimo azzurro o la canzone del sole, eravamo perfetti. Si è messi lì, abbiamo fatto tutto il giro della linea D, linea gialla di questo pullman che va verso i Navigli, per intenderci, e vi assicuro che anche lì, insomma, lo stupore sulle facce dei turisti quando vedono i Navigli è davvero, davvero appagante, sta di fatto che, insomma, poi non potevamo però tornare indietro a casa perché c'era la partita San Siro, quindi avremmo trovato tutto imballato da quelli che andavano a San Siro, noi abbiamo deciso di fare un altro giro ancora, cioè ci siamo messi a fare due giri uguali, potevamo in realtà cambiare, come si dice, zona, cioè cambiare linea, ma in realtà abbiamo deciso comunque di continuare su quella lì. Molto interessante soprattutto nel vedere appunto le facce dei turisti che vedono la città di Milano. Nota a margine invece del Fabio un po' più ambientalista, se magari questi pullman fossero elettrici e magari un po' più piccoli non sarebbe male, un po' troppo grossi e un po' troppo non elettrici, come dire, in alcuni semafori, in alcune sgasate, stare in fondo all'ultimo piano si sentiva un bel profumino. Immagino quelli che stanno dietro l'autobus, magari quelli che sono fermi per strada o comunque l'aria in generale, che questi pullman, e non sono solo quelli, sono tanti, quelli turistici che continuano a girare la città, insomma provocano. Sicuramente anche un po' di congestionamento, nonostante fosse domenica, c'era un bel po' di gente. Gali, casa mia e di casa loro, ma che poi anche casa nostra hanno parlato, anzi si sono fatti sentire quelli del comitato di Lambrate Rubattino, riparte, perché? Perché la questione è sempre la famosa 73. Ed ecco, queste sono le voci del comitato e non solo di quel comitato, ma di un po' di cittadini che proprio sabato hanno protestato, o meglio, prima hanno fatto un'assemblea in cui hanno spiegato un po' le ragioni della richiesta, della protesta e di cosa sta succedendo nell'ambito del riordinamento di quella famosa linea che ha lasciato delle zone scoperte nell'est milanese, appunto la linea 73, e poi a fine dell'assemblea con un grande striscione con scritto Ridatecela, appunto la 73, sono scesi in strada e hanno bloccato per pochi secondi, in realtà ha proprio giusto il tempo di fare il video e di far sentire però la loro voce, giustamente per alcuni minuti appunto hanno bloccato il traffico su Viale Corsica. Un flash mob contemporaneo che però ha fatto sicuramente parlare di sé e a minori può riaccendere un po' la questione, può riaccendere anzi i fari su questa questione. La cosa interessante è che appunto il comitato nel suo comunicato stampa di ieri esce dicendo Ridateci la 73, ma la battaglia contro i tagli ai mezzi di superficie deve diventare cittadina. Attenzione, ormai giustamente si parte da 73 ma sta diventando cittadina. Perché? E qui torniamo su questa cosa. Allora, le metropolitane sono sacrosante, sono fondamentali per l'utilizzo in una città come Milano, ma importanti sono anche i mezzi di superficie. Mezzi di superficie che però devono essere a quel punto alternativi alla metropolitana. Quindi, verrebbe da dire anche, magari rivedendo certe zone, rivedendo certi percorsi, ma non togliendo semplicemente perché passa nello stesso punto in cui passa la metropolitana. Anzi, mi viene da dire, il mezzo pubblico deve avere più di una fermata in concomitanza confermata della metropolitana perché io posso scendere dal mezzo pubblico e prendere la metropolitana se mi serve. Ma il mezzo pubblico dovrebbe essere invece, il mezzo pubblico, il mezzo di superficie, dovrebbe essere invece più capillare, entrare nei quartieri. Bisogna ripensare completamente l'utilizzo dei mezzi pubblici di superficie. Questo ce lo dice anche Velocipiedi perché anche lui ha fatto delle proposte su cui ad esempio non mi trovo completamente d'accordo perché ad esempio dice che le fermate degli auto sono troppo vicine a volte, bisognerebbe allungarle. Attenzione, Velocipiedi, però se le allunghiamo poi le persone che usano i mezzi di superficie a quel punto loro non capiscono più perché utilizzare i mezzi di superficie e non utilizzare invece i mezzi di tipo la metropolitana o così. Discorso diverso invece per i tram. I tram dovrebbero avere fermate più lunghe perché il tram ci mette di più accelerare, di più frenare. Insomma, la questione dei mezzi pubblici e dei tagli ai mezzi di superficie è molto importante e non è, come giustamente dice il comitato, non è solo, non è solo l'A73 ma deve diventare una battaglia cittadina, così dicono appunto i comitati. Allora vabbè, noi diamo voce anche al comitato, gli ho dato voce spesso mentire anche però all'altra parte che spiega perché invece i tagli, ahimè, vanno volte fatti perché comunque i costi sono molto alti. Io, scusatemi, qui forse esce fuori una parte di me che non vi aspettate, mi chiedo perché non magari liberalizzare in alcune zone, soprattutto per quanto riguarda il trasporto di quartiere, magari si potrebbe pensare a delle soluzioni alternative, no? Delle piccole società che gestiscono semplicemente la movimentazione all'interno di quel determinato quartiere. I will survive, Gloria Gaynor alle 8.08, questo era il Crystal History di oggi, lunedì 6 maggio, il nostro Crystal History all'interno di Good Morning Milano, ancora a tutti buongiorno e ben ritrovati e ben ritrovate qui in ascolto, 331-7853-555, il nostro numero di Whatsapp, dovete scriverci, grazie mille a chi ci ha salutato perché stava entrando al lavoro, Adriana ci scrive, entro ora al lavoro, ci sentiamo domani mattina. Bene, grazie Adriana per il tuo messaggio, buon lavoro allora ad Adriana, ma buon lavoro a tutti voi perché è lunedì anche e lunedì vi diamo un po' un buon lavoro che dura tutta una settimana, anzi io non faccio niente, devo dire la verità, ho solo la fortuna di conoscere uno bravo che vi può dare invece delle buone notizie sul mondo del lavoro che si chiama Filippo Poletti, ebbene sì, top voice di LinkedIn, milioni e milioni di contatti ogni giorno su LinkedIn, bene, lui ogni lunedì ci racconta un po' come funziona questo mondo del lavoro, come potrebbe essere anche migliorato questo mondo del lavoro e le cose belle che ci sono nel mondo del lavoro con il suo buon lavoro. E allora buon lavoro a te Filippo, buon lavoro a Filippo Poletti. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è merito. L'esempio da chi arriva? Arriva da Piero Pittaro, imprenditore friulano che purtroppo è scomparso lo scorso marzo. L'imprenditore ha lasciato un testamento scrivendo Lascio tutto ai miei nove dipendenti che mi hanno aiutato ad esportare il nome dell'azienda e i suoi prodotti dagli Stati Uniti a Singapore. Bellissimo esempio di riconoscenza. La seconda parola chiave della settimana è Boomer. Boomer da valorizzare in azienda così come i loro figli. La Gen X che si avvia a entrare nel pieno della maturità lavorativa. A dirlo è la lettura del bollettino del sistema informativo Excelsior. Longevità dunque nelle aziende italiane. Longevità che va valorizzata come aggiornando in continuazione le competenze e tenendo d'esta la motivazione al lavoro. La terza e ultima parola chiave della settimana è Cura. Per i 30 anni dello stabilimento di Novara i dipendenti, l'azienda e la stessa famiglia Barilla hanno donato un'ambulanza attrezzata per le emergenze neonatali alla Croce Rossa. Un regalo dunque per fare in modo che il gruppo interno di volontariato interno a Barilla sia al servizio appunto della comunità in modo sempre più efficiente. Impegno sociale dunque per far crescere il territorio. Perché come diceva Adriano Olivetti per restare in Piemonte una fabbrica funziona in una società, in un territorio che funziona. E allora buon lavoro a tutti e una cosa importante scrivetemi, scrivetemi, scrivetemi le belle notizie sul lavoro tramite LinkedIn. Buon lavoro a tutti! Angelina Mango la noia nella settimana dell'Eurovision. Ebbene sì è arrivato, sapete quanto sono fan dell'Eurovision, io non ne sono perso mai nessuna edizione. Inizia appunto il 7 domani, domani nella prima semifinale, poi il 9 maggio la seconda semifinale, è l'11 maggio la finale in cui appunto ci sarà Angelina Mango. In realtà la potremo già ascoltare anche il 9 maggio perché nella seconda semifinale, in cui l'Italia è una delle Big Five quindi è di diritto iscritta alla finale, ma nella seconda semifinale, dopo la tredicesima esibizione, ci sarà appunto l'Italia con Angelina Mango. Nella seconda semifinale gli altri Big saranno Francia e Spagna, nella prima semifinale invece gli altri Big sono Regno Unito, Germania e poi la Svezia che è diciamo il Big Five più uno che sono la nazione che detiene appunto, ospita scusate, ospita l'Eurovision Song Contest 2024 appunto a Malmo. Da domani inizia questa bellissima settimana di musica, io ve lo consiglio sempre, cercatelo, guardatelo, ieri c'è stato il Turquoise Carpet, il tappeto turchese perché non è Red Turquoise e in realtà dalle prime impressioni lette sui vari siti di Eurovision, tra cui Eurovision Festival News non è stato proprio un grande carpet, niente di che, sono passati, una foto e via, niente di sfavillante. Speriamo che invece lo show sia davvero interessante. Nella seconda semifinale in cui appunto vedremo l'esibizione fuori concorso di Angelina Mango, che invece sarà poi in concorso la sera della finale, ci sarà anche San Marino se non sbaglio la seconda sera, giusto? Sì, c'è anche San Marino con i Megara, un gruppo spagnolo che ha vinto una voce per San Marino. Vi ricordo che, per quanto riguarda la finale, noi italiani non possiamo votare per l'Italia. Questo si sa, credo, no? Cioè, credo che si sappia ormai bene che funziona. Cioè, voi potete votare per qualsiasi artista tranne che per quello della vostra nazione. Per quanto riguarda la finale, in realtà invece nelle semifinali dipende. Possiamo votare nella prima semifinale e non nella seconda, se non mi ricordo male. Cioè, abbiamo diritto di voto, una cosa del genere. Ma chi è che vota la semifinale poi? Nessuno, dai. No, non è vero, non è vero. Però insomma, mi raccomando, domani sera, martedì, giovedì e sabato. Queste sono le tre serate dell'Eurovision Song Contest 2024. Tanti auguri ad Angelina e come si diceva tempo fa, non succede, ma se succede, sarebbe davvero, davvero un grande, grande colpo. Andiamo con un'altra grande donna della musica italiana, moderna, anzi due donne, perché siamo a parlare di Annalisa, insieme a Rose Villain, con Eva più Eva. Alle 8 e 18 minuti, qui su Crystal Radio. Good morning, Milano! Annalisa e Rose Villain, Eva più Eva, 2021, pensate, quando ancora lontana era una Rose Villain che diventava presentatrice, anche televisiva, di nuova scena e un'Analisa che era ancora lontana dall'Analisa, fatta, no, dalla Prendalo Di Gianni, che insomma, grandissima, grandissima, tutte e due, bravissime, e insomma, giustamente. Le ascoltiamo oggi, lunedì 6 maggio, alle 8 e 22, qui su Crystal Radio. Le sentiamo, perché insomma, si sentono queste canzoni, ma chissà cos'altro si può sentire, no? Tu sai quando ti dici, ascolta, ma senti questa come... Eh, no, senti questa non puoi dirlo, perché ormai lo dice solo Ambrogio Curti qua, eh sì. Perché Ambrogio Curti, dopo di noi, alle 9 e 05, va sempre in onda con Senti Questa, le grandi canzoni internazionali e nazionali, raccontate, spiegate, con aneddoti che neanche chi ha scritto quelle canzoni quasi sa e si ricorda, ma Ambrogio li va a trovare, li va a scovare e ve li racconta. E allora, inizia la settimana nuova anche in compagnia di Senti Questa, e allora abbiamo chiesto al bravissimo Ambrogio di dirci un po', ma insomma, cosa ci fai sentire? Quali sono queste che ci fai sentire questa settimana? Quindi Ambrogio, raccontaci un po', raccontaci quali saranno appunto le canzoni che questa settimana andrai a farci ascoltare, andrai a farci raccontare, ma soprattutto ci spiegherai gli aneddoti. A me è quello che piace di Ambrogio, è che ti racconta tutte quelle pieghe dietro, no, che ci sono dietro a una canzone, dietro a un artista, e sono cose davvero, davvero super, super, super interessanti. E le potete trovare sempre appunto in Senti Questa alle 9.05 tutti i giorni, dopo il giornale radio, qui su Cristian Radio. E quando dico tutti i giorni, anche, mi ripeto, oh il primo maggio c'era, il 25 aprile c'era, a Pasqua forse no perché è domenica, ma in tutti gli altri giorni c'è sempre. Quindi Ambrogio c'è sempre e ogni volta vi fa sentire quella giusta. Perché la cosa bella di Ambrogio Curti appunto è che senti questa, ma questa che senti è quella giusta. A te Ambrogio! A te Ambrogio, quella giusta, senti questa, ne sentiamo anche altre, e poi torniamo da voi. Dua Lipa, we are good, we are good Dua Lipa, alle 8.34 minuti, Cristian Radio, Good Morning Milano, ben ritrovati, bentornati dopo la piccola pausa pubblicitaria qui con noi. L'ultima parte di trasmissione la facciamo con un ospite che è sempre in giro da quanto credo, perché insomma vive su un autobus nella mia immagine, nel mio immaginario vive su un autobus, io lo chiedo se è proprio così comunque. Diamo il benvenuto ad Alessio Ferrara, buongiorno di Bass Theatre, buongiorno Alessio. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Nella mia testa tu vivi su un autobus, nel senso, forse un po' esagerato così, però non lo so. Vivere su un autobus no, però gran parte dell'anno siamo in giro, solo in giro con la compagnia, davvero su un autobus, ed è quanto emozionante sicuramente. Perché voi arrivate da Napoli, ma praticamente avete bazzicato ogni città europea in questi anni, perché su di un autobus fate teatro, giusto? Esattamente, esattamente, noi, l'associazione di promozione sociale Bass Theatre è un'associazione che promuove, organizza festival, rassegne, ma anche proprio spettacoli, produzioni di spettacoli, di circo, non teatro, anche musicali, quindi di arti sceniche e performative, e lo fa in questa maniera abbastanza insolida attraverso un mezzo speciale, ovvero un autobus trasformato in teatro, cosiddetti teatri mobili, un teatro mobile a tutti gli effetti. Ecco, e allora ne stiamo parlando perché siete a Milano, in questo momento, giusto? Sì, esattamente, siamo a Milano, siamo a Milano, questa sera andremo in scena a Piazza Minniti, Isola, alle ore 20, con il nostro spettacolo Gran Cabaret, quindi un put purri di arti, appunto, dal burlesque al circo, alle acrobazie, alla musica cantata. E come funziona per partecipare alle vostre performance? Allora, noi oggi che siamo qui, grazie al Gene Hendrix, che sta promuovendo un suo ultimo prodotto, ci ha fortemente voluto, proprio con il nostro cabaret, e infatti grazie anche a loro, che noi siamo qua a Milano, per fare questo spettacolo, che sarà totalmente gratuito, quindi basta arrivare in piazza, anticiparsi un po' per essere vicini allo spettacolo. Beh, fare qualcosa di gratis a Milano è una rivoluzione, non so se lo sai, visto che è arrivato da altre città, magari non siete accorti, Milano è stranamente qualcosa di gratis, dov'è la fregatura, di solito si chiede, infatti. Invece no, non c'è fregatura, anzi, c'è davvero una bellissima iniziativa, che è quella che voi state portando in giro ormai da un po' di anni. Come nasce l'idea del Bastiatr? Guarda, nasce dall'incontro con le altre mie due soci, Elaria Cicero e Roberta Ferraro, che prima di tutto noi siamo amici dall'epoca adolescenziale, si può dire, siamo cresciuti insieme con l'idea di fare qualcosa artisticamente, sicuramente con Ilaria, che è un'attrice, una performer, mentre Roberta è proprio un'organizzatrice, e poi è diventata anche organizzatrice teatrale, ed è nata perché partivamo da ragazzi con la nostra arte di strada e poi l'abbiamo costruita, diciamo, creando su una compagnia. Da lì abbiamo sentito la necessità, poi con l'incontro con questo autobus che è stato il nostro amore, se in voi è nato, poi appunto l'idea di trasportare la nostra arte attraverso un teatro mobile. Dove arriva questo autobus? Questo autobus è un autobus che la compagnia delle gru, teatro delle gru di Matera, di lettura, riuscì ad acquistare e a trasformare totalmente questo autobus, che è un autobus gran turismo, quindi immaginati 13 metri per 4, un bel colosso, di Dubipiano praticamente, lo sventrò e l'ha ricostruito, riallestito, ovviamente proprio per le necessità teatrali. Poi la compagnia non ne mette tantissima fortuna, però l'abbiamo avuta noi, che abbiamo superato la concorrenza francese e tedesca pur di avere questo autobus. E da lì, dal 2015, che siamo in giro tramite festival, rassegni, appunto, che organizziamo anche noi, oppure ovviamente siamo ospiti di diversi programmi. Come in questo caso, appunto, questa sera ricordiamo, appunto, in Piazza Minniti, dalle ore 20, nel cuore dell'isola, nel cuore del quartiere isola sarete lì a raccontare le vostre storie, a farle, a metterle in scena, e appunto, diciamo, è lo spettacolo gratuito, anche grazie appunto al contributo del Gene Hendricks, quindi, insomma, è una bella festa per tutti. Ma poi questo pullman, cioè, poi prendetelo, spostate da un'altra parte, e fate lo spettacolo da un'altra parte, cioè funziona così, no? Esatto, questo, diciamo, esatto, questo è praticamente anche la base, sì, soprattutto quello che noi vogliamo arrivare, cercare di portare il teatro, le arti sceniche performative, in anche luoghi dove magari sono sprosbisti di teatro, quindi non solo grandi città e capitali, ma anche in zone dove magari non ci sono teatro, oppure in aree archeologiche, oppure all'interno, appunto, di festival, dove in borghi, voglio dire, di tutta Italia e anche l'Europa, come l'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo tour tra la Polonia, la Germania e la Francia, ed è stato un bello scambio anche con, voglio dire, con l'Europa, di scambiarci un po' quelle che sono, sì, le nostre arti, soprattutto italiane. Dopo Milano dove andrete? Lo sai già? Avete già delle date? Dopo Milano è lo stesso evento, praticamente lo faremo proprio a casa nostra, a Napoli, a Piazza del Gesù, e sarà un bel ritorno anche per noi nella nostra città, perché ti sembra strano, ma noi praticamente siamo di Napoli, viviamo anche a Napoli, ma il bus gira, quindi essere a Napoli anche per noi è davvero molto strano. Ma quant'è che non tornate a Napoli, appunto, immagino, insomma, guarda, Napoli-Piazza del Gesù è stata la prima data che abbiamo fatto nel 2015, praticamente nove anni fa. Poi ci ritorniamo adesso che, e sono contento perché l'anno prossimo faremo appunto dieci anni ed è un bel cicchio che quasi si chiude. Vabbè, immagino, immagino. E quindi, appunto, avete già anche una tournée europea per caso in giro quest'anno? No, adesso ci concentriamo sull'Italia. Quest'anno saremo in Italia. Sì, sì, quest'anno saremo in Italia. Saremo in Italia, gireremo un po' per sud e centro Italia, e poi riprenderemo quest'autunno con altri diversi progetti europei, perché ovviamente l'autobus e l'associazione poi, ecco, al di là anche degli spettacoli, promuove anche delle rassegne dei festival, sempre con il teatro mobile, anche attraverso i canali con l'Unione Europea. Bene, 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 bene. E allora tanta, tanta merda in questo caso, giusto? Non bisogna dire altro, giustamente, giustamente. Grazie mille, grazie Fabio. Ecco, e ricordaci appunto l'appuntamento di questa sera, così che nessuno di noi possa mancare. Ore 20, Isola, Piazza Minniti e Gran Cabaret del Bass Theatre. Andateci, mi raccomando, è l'unico autobus in cui potete salire senza biglietto e nessuno vi dice niente. Davvero potete fare. Non ci sono i controllori a chiedere biglietto, quindi fate tranquillamente quello che volete, mettetevi davanti e godetevi lo spettacolo del Bass Theatre. Grazie mille Alessio. Grazie a voi, grazie a te Fabio. Di solito in questi casi dico ci si vede a teatro, con te diciamo ci si vede all'Ottogrill, va bene, facciamo così. Ci vediamo per strada. Ci si vede in piazza, ciao. Ci si vede in piazza, ciao Alessio. Grazie mille ancora ad Alessio Ferrara, Bass Theatre, questa sera appunto alle ore 20, in Piazza Minniti, nel cuore, nel cuore dell'isola, qui a Milano. Il Bass Theatre ha fatto tappa. Vasco e Rossi con Alba Chiara e non si può chiudere questa canzone dicendo Milano, grazie. No, vabbè, scusate, mi faccio sempre prendere da quella solo di chitarra che parte, c'è poco da fare, fa subito Stati di San Siro, ultima canzone del concerto di Vasco, c'è poco da fare. E invece sono le 8 e 46 minuti. Da un minuto, da 60 secondi, è iniziato lo sciopero dei mezzi ATM. al momento però il sito ATM non dice niente, se non, se dovete andare oggi alla TM Point di Cadorna, sappiate che è chiuso, quindi non ci potete andare. No, oggi non si può andare. Al momento le metro risultano ancora regolari, però bisogna vedere perché appunto è proprio 60 secondi fa è iniziato lo sciopero, quindi adesso nel giro di qualche minuto, prima comunque della chiusura, noi vi daremo in tempo reale l'aggiornamento su cosa sta funzionando e cosa non sta funzionando, con cosa va, cosa non va, cosa va piano, cosa va veloce, se le linee saranno tutte aperte, insomma ve lo diciamo appunto prima di chiudere, ci prendiamo qualche minuto ancora, così che le notizie dal sito ATM, dall'app ATM, dall'ufficio stampa ATM, da dove volete di ATM, arrivino, oppure che arrivi il messaggio di qualcuno che arriva, sono in ritardo in ufficio perché non ce l'ha, ecco, perché poi è quello, le app, poi serve quello che arriva in ritardo che dice no, guarda, sto arrivando in ritardo, e tu dici ma l'app, e no, ma sto arrivando, e tu non sai, non sai chi dei due mente, l'app o il tuo collega che arriva in ritardo, e questa è la domanda importante da farsi, i giorni di sciopero, sta di fatto che ve lo ricordo, 8.45.15 la prima fascia di stop, poi pomeriggio alle 15.18 di nuovo, i mezzi che andranno e funzioneranno, e poi dalle 18 fino a fine servizio, altro stop dei mezzi di ATM, sia di superficie, che tram, che metro, tutte quante, ancora regolare in questo momento, al momento, in questo istante, salvo cookies o cash del sito, in questo momento dovrebbe essere ancora tutto per il momento, per i prossimi minuti, ma sta succedendo in questo momento, quindi, insomma, va bene essere sulla notizia, ma forse a volte è un po' troppo, già non possiamo proprio essere nella notizia, a meno che mi metto a chiamare tutte le stazioni della metropolitana, e chiedo a loro. Quindi un po' di musica, poi torniamo con gli aggiornamenti, appunto, sullo sciopero dei mezzi ATM, per capire un po' come è messa la situazione, questa mattina a Milano, poi ci salutiamo anche, perché siamo quasi arrivati alla fine, ancora qualche minuto insieme, giusto il tempo, di qualche canzone, ancora come quella degli Imagine Dragons, scusate, con Sharks. Imagine Dragons con Sharks, e sono arrivati i primi, stanno arrivando, anzi, i primi aggiornamenti del sito ATM, allora, no, è stato, allora, una cosa strana, è arrivato l'aggiornamento del sito ATM che è scomparso all'istante mentre lo stavo aprendo per leggerlo, diceva che M4 chiusa ed M2 regolamentata, diciamo, nel senso che non è tutta completa, poi non ho fatto in tempo a riaprirlo ed è scomparso la dichiarazione qua, infatti, hanno tolto adesso il momento, stanno riaggiornando, quindi stanno riaggiornando, comunque sta di fatto che 331-78-53-555 è il nostro numero di Whatsapp e Alberto, con sempre la sua proverbiale, il suo proverbiale pragmatismo, ci dice anche un laconico, due parole ci ha scritto semplicemente, e piove, così ci va a capire come la giornata rivolge al migliore delle maniere, sciopero dei mezzi e poi ci aggiunge lui, e piove, mi è bastata queste due, queste due parole per far collare tutti nel sconforto e nel disastro, sta di fatto comunque che al momento si sta aggiornando tutta la situazione sulle linee ATM e dovrebbe esserci appunto la M4, quindi state all'occhio se la M4 forse sta chiudendo in questo momento e soprattutto la M2 rallentata e regolamentata, cioè non tutta la linea sta funzionando sulla M2, quindi stateci all'occhio perché arriveranno man mano durante le varie comunicazioni, appunto, durante la giornata e durante la mattinata che noi stiamo appunto controllando e seguendo in tempo reale in modo da potervi dare tutte le indicazioni, lo sentirete magari anche poi nei giornali radio che seguiranno a noi, tutte le varie informazioni, comunque vi ricordo sempre di andare sul sito di ATM che si trova davvero tutto, lo stanno proprio in questo momento, in tempo reale lo vediamo che stanno aggiornando alcune dichiarazioni, stanno riuscendo, continua a apparire e scomparire la finestra degli ultimi aggiornamenti perché stanno aggiornando tutte le varie info che hanno, insomma, non è facile gestire tutte le stazioni della metropolitana, tutte le linee, tutte le linee superficie, cioè capire cosa sta funzionando e cosa no, comunque, come sempre l'ultimo avvertimento è sempre quello di dire calcolate tempi di percorrenza più lunghi per il vostro spostamento, questo è quanto posso dirvi questa mattina qui dai microfoni di Cristal Radio, lunedì 6 maggio, sciopero dei mezzi appena partito, ancora appunto da definire bene la Intitama, M4 chiusa al momento. 8 e 54 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di lunedì 6 maggio di Good Morning Milano, grazie a tutti per l'ascolto, anche se c'è lo sciopero dei mezzi, dopo di noi comunque ci sarà Ambrogio Curti con Senti Questa, lo sciopero e non lo ferma lui, niente ferma Ambrogio Curti, niente può fermare Senti Questa e non dimenticatevi, ve lo dirò tutta settimana, che sabato c'è la maratona a Cristal Radio per il compleanno di Cristal Radio, 40 anni di Cristal Radio tutto il giorno in diretta alle 8 del mattino e pensate ci sarà una coppia inedita la mattina, ebbene sì, anzi, un trio inedito, volete sapere, ve lo devo dire? Praticamente tre generazioni a confronto, sabato mattina dalle 8 sui microfoni di Cristal Radio Ambrogio Curti, il qui presente Fabio Ranfi e Viola, la nostra ex producer, ebbene sì, tre, tre generazioni a confronto che capiranno che cosa significa 40 anni per noi, 40 anni, sono tanti, sono pochi, sei giovane o sei vecchio? Tutto questo sarà sabato ma prima di sabato ci sono cinque giorni di programmazione con Good Morning Milano tutte le mattine dalle 7 alle 9 qui su Cristal Radio e quindi buona giornata a tutti ci sentiamo domani mattina qui alle 7 ciao 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 ciao